Affidiamo a Maria, con la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario, tutte le persone che piangono la morte dei loro cari, le persone sole e abbandonate, e quelle che soffrono un ingiusto dolore. L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria e la concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne. E venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre di Dio, che risplendi di grazia, tu ti accogli nella tua casa, con fiducia noi veniamo a te. Santa Madre di Dio, che risplendi di grazia, tu ti accogli nella tua casa, con fiducia noi veniamo a te. insieme con Maria continuiamo la contemplazione dei misteri dolorosi. Nel primo mistero contempliamo Gesù che agonizza nell'orto degli olivi. Pater Nostro qui e sinceri, santificetur nome in Tum, adveniat regnum Tum, fiat volontas Tua, sicut in cielo et in terra. Pana nostro un quotidiano, da nobis odie, et in vite nobis debita nostra, sicutete nosti vittimus debitorimus nostris, et ne nos inducas in tentazione, se delibere la nostra mano. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre alme. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre alme. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedictus fructus ventris Tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre alme. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre alme. Ave Maria, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, ete benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre am. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, ete benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre am. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, ete benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre am. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, ete benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre am. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, ete benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre am. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, ete benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre am. Gloria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, benedictus fructus ventris tui, Iesu. Sucutera ti il principio e te luce sempre, et in secula seculorum, am. Santa Madre, Dei, ora pro nobis peccatoribus, benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, benedictus fructus ventris tui, Iesu. Siano impresse nel mio cuore. Nel secondo mistero doloroso, contempliamo Gesù flagellato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o così in terra. Naci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci induri in tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Nel terzo mistero doloroso, contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Nasi oggi, nostro pane quotidiano, rimette a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci cura in tentazione, ma libera ci dal male. Amo. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. Santa Padre, voi fate che le viaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Pasqua. E il quarto mistero doloroso, contempliamo Gesù che sale il calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in Cielo così in terra. D'acce che oggi il nostro pane quotidiano e rimettiamo il nostro segretario, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Liberaci dal male. Amen. Svão Maria, Mère di Niente, priega per noi e difrupiamo il nostro hanke orte. Svã Maria, Mère di Niente, priega per noi e difrupiamo il nostro أ人o. Grazie a tutti. 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 Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre Purissima, prega per noi, Madre Castissima, prega per noi, Madre sempre Vergine, prega per noi, Madre Immacolata, prega per noi, Madre degna d'amore, prega per noi, Madre ammirabile, prega per noi, Madre del Buon Consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Madre di Misericordia, prega per noi, Vergine prudente, prega per noi, Vergine degna d'onore, prega per noi, Vergine degna di lode, prega per noi, Vergine potente, prega per noi, Vergine clemente, prega per noi, Vergine fedele, prega per noi, specchio di perfezione, prega per noi, sede della Sapienza, prega per noi, fonte della nostra Letizia, prega per noi, Tempio dello Spirito Santo, prega per noi, Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi, dimora consacrata a Dio, prega per noi, rosa mistica, prega per noi, torre della Santa Città di Davide, prega per noi, fortezza inesbugnabile, prega per noi, santuario della Divina Presenza, prega per noi, arca dell'Alleanza, prega per noi, porta del cielo, prega per noi, stella del matino, prega per noi, salute degli infermi, prega per noi, rifugio dei peccatori, prega per noi, consolatrice degli afflitti, prega per noi, aiuto dei cristiani, prega per noi, regina degli angeli, prega per noi, regina dei patriarchi, prega per noi, regina dei profeti, prega per noi, regina degli apostoli, prega per noi, regina dei martiri, prega per noi, regina dei confessori della fede, prega per noi, regina delle vergini, prega per noi, regina di tutti i santi, prega per noi, regina concepita senza peccato, prega per noi, regina assunta in cielo, prega per noi, Regina del Rosario, prega per noi, Regina della Famiglia, prega per noi, Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci Signore, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ami pietà di noi. Rivolgiamo la nostra supplica alla Beata Vergine di Loreto in questo tempo di pandemia. O Vergine Madre, come sei uscita dalla tua casa per portare conforto alla Cugina Elisabetta, visita le nostre case e i luoghi di sofferenza. E in questo tempo di incertezza e di forte preoccupazione, portaci la tua materna consolazione. Ti affidiamo agli ammalati e le loro famiglie, gli anziani e le persone sole. Accogli tra le tue braccia i defunti e conforta i loro familiari. Sostieni i medici, gli operatori sanitari e quanti lavorano per il bene e la sicurezza di tutti. Aiutaci a svolgere il nostro compito con responsabilità, con spirito di adattamento e di solidarietà. Liberaci dalla pandemia che ci sta colpendo, perché possiamo tornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. O Maria, allontana da noi ogni male e accompagnaci nel pellegrinaggio verso la Pasqua del tuo Figlio Gesù, perché in Lui si rinsaldi la nostra fede, si ravvivi la speranza, si rafforzi la carità. Ascolta, o Madre, la nostra preghiera. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppriche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Attendiamo con Maria la risurrezione di Cristo. Dopo la morte e la sepoltura di Gesù, rimane solo lei a custodire la fede sulla terra. Lei continua a credere che nulla è impossibile a Dio, come l'angelo le aveva detto tra le pareti di questa santa casa. Nell'ora delle tenebre e della prova, Maria continua a fidarsi di Dio. Abbiamo bisogno della fede di Maria. Il popolo cristiano da secoli in questo giorno viene in santa casa a salutare Maria. Dopo il bacio al crocifisso, si viene a salutare la madre. In questo sabato santo così inedito, compiamo anche noi questo gesto di affetto e di fede dalle nostre case. In quest'ora difficile di prova per tutti noi, per tutta l'umanità, ci aiuti Maria a credere che nulla è impossibile a Dio. Lei sa di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederà. Andiamo avanti con fiducia, sapendo che Dio e Maria non ci abbandonano mai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.